Augusto Marasco come va a finire? Come va? Come va a finire questa partita tra lei e l'Andrea? Vinciamo, non vinco, vinciamo. Vinciamo tutta la squadra ovviamente. E quindi cosa farete nei primi mesi della vostra vittoria? Beh, io ho sempre detto rispetto agli obiettivi misurabili con i quali mi sono proposto alla cittadinanza che bisognerà mettere su la squadra per dare poi concretezza al raggiungimento di quegli obiettivi. Ottimismo a parte, se invece maculatamente doveste perdere che cosa farete? Io continuerò a lavorare per il bene della città.